Uno studente, un ragazzo, una ragazza che va a scuola e che è figlia di immigrati, non è più possibile che non sia né immigrata né italiana. Sarà italiana, sarà italiana, sia chiaro. E chi si alza e ha il coraggio di obiettare qualcosa, gli si risponde, guarda che se non è così, non è lei la ragazza che è fuori dal mondo nuovo. Siamo noi tutti che siamo fuori dal mondo nuovo. E bisogna essere un po' aggressivi.